Tivoli e Yukawara sono due città unite da un gemellaggio dal 2016 hanno molti punti in comune tra cui il fatto che entrambe sono città termali e soprattutto per il fatto che uno dei biscottifici più importanti della città di Yukawara e di tutto il Giappone è chiamato Tivoli. Sono orgoglioso di aver rappresentato la città di Tivoli e il mio territorio e la mia cucina qui a Yukawara. Questo scambio culturale ho preparato due cene insieme a due chef giapponesi, cosa che mi ha reso ancora più orgoglioso di essere qui. Odierete l'interscambio culturale tra Yukawara e Tivoli, felice di aver contribuito con i nostri prodotti tipici di Tivoli, di biscotteria secca e pasta.